Carissimi amici, bentrovati al nostro appuntamento del sabato pomeriggio. Lievemente in ritardo, ma non importa, ci siamo. Ci siamo tutti. L'argomento di oggi, l'argomento che è un po' discusso tra i vari rasatori, ci sono dei dubbi sul tempo di ammollo dei pennelli. Quindi, partiamo dal presupposto che non c'è una scienza su determinate caratteristiche e tecniche di utilizzo. Come sappiamo, ogni pelle ha il suo tempo di adattamento, ogni pennello si comporta sulla nostra pelle in modo diverso. E ogni pelle si comporta nella maniera diversa. Quindi io non parlo di una tecnica di utilizzo che sia valevole per tutti, ma do una mia impressione. Posso dare una mia impressione secondo l'esperienza acquisita. Allora, oggi vi volevo parlare del tempo di ammollo dei pennelli. In questo caso, due pennelli che direi molto caratteristici, no? Un pennello in tasso, in questo caso l'Omega 6735 in tasso Super Badger e Omega 48 invece in setola di maiale. Sono due pennelli molto diversi tra di loro, come è diverso il prezzo, come è diversa anche la tecnica di montaggio, eccetera, eccetera. Allora, arriviamo al dunque. Il tasso, che è quello più semplice che è poi da utilizzare e che dà delle notevoli caratteristiche tecniche già pronte, nel senso che comunque è già più morbido, ha uno schiumaggio maggiore, una schiuma anche di montaggio più corposa, più densa. Tempi di ammollo. Quando il pennello è già rodato, non è che necessiti di un notevole ammollo. Io quando voglio proprio esagerare e voglio un massimo della morbidezza, lo butto dentro un bicchiere, così con acqua tiepida, e lo lascio anche tutta la notte. Però è troppo, effettivamente. Soprattutto con un pennello come Omega 6735, che per definizione è un floppy, cioè ha le prestazioni di uno straccio praticamente in viso. Quindi è molto morbido. Quindi se proprio, proprio vogliamo una morbidezza tale da avere il massimo comfort, lo possiamo anche buttare in acqua tiepida, che poi diventerà fredda tutta la notte, ma è eccessivo. Nel caso del tasso già rodato, già rodato però, allora lo possiamo mettere in acqua una mezz'ora, un quarto d'ora, prima di raderci. Acqua tiepida. Calda no, fredda neanche, tiepida sì. Tiepida vuol dire fare entrare l'acqua per capillarità all'interno del pelo, che lo assorbe e diventa morbido. Quando è rodato, basta un quarto d'ora, mezz'ora. Non c'è. Questo sono i tempi che utilizzo io. quando è nuovo il tasso va rodato una notte, io lo lascio nell'acqua tiepida, assolutamente, anche un giorno. Tempi di applicazione comunque un quarto d'ora, mezz'ora prima della rodatura. Settola di maiale. Settola di maiale. Se non ci vogliamo irritare la pelle, se vogliamo un montaggio più confortevole, soprattutto quando andiamo ad agire nel face lettering, è importante che il pennello sia prima di tutto ben rodato. Un omega 48, se non è rodato, vi infiamma la pelle. Ve infiamma, vi irrita, viene bella graffia, gratta proprio la pelle. È sfogliante l'omega 48. Io ogni volta che lo utilizzo lo lascio sicuramente una notte a bagno nell'acqua tiepida. Poi se mi alzo durante la notte per bisogni vari, cambio l'acqua, la rimetto tiepida e me ne vado a dormire di nuovo. Se proprio, altrimenti lo lascio così com'è. Non stiamo, scusate, non siamo dei barbieri che utilizzano il pennello tutto il giorno e quindi si tratta di un pennello già umido, già rodato, eccetera, eccetera. Ammesso che i barbieri utilizzino ancora i pennelli in setola e non magari sintetici o di altro tipo, oppure utilizzano gel da barba o schiume da barba spillate da macchinetta per questioni di igiene. Comunque, ammesso che si utilizzi, il pennello deve essere assolutamente rodato. io lo lascio, la setola di maiale la lascio una notte a bagno, sempre, assolutamente, spesso e volentieri addirittura la mattina prima, quindi un giorno. Chiaramente chi utilizza sempre il solito pennello non è che lo può lasciare una notte, perché altrimenti inizia il pelo e inizia a staccarsi dalla base del ciuffo. Quindi, se lo utilizziamo, che ne so, a giro avete tre pennelli in setola, ok, una notte a bagno prima di utilizzarlo io farei così, io faccio così e successivamente si lascia asciugare dopo il montaggio, dopo la rasatura e si passa ad un altro pennello. Se utilizzate invece sempre il solito pennello, sicuramente è la prima volta che lo utilizzate durante la settimana una notte a bagno. Io faccio così, poi non lo so. E poi, se utilizzate sempre il solito pennello, bastano, che ne so, un paio d'ore. Però se fate la barba la mattina è dura metterlo a bagno un paio d'ore. è il pennello in setola. Almeno due ce ne vogliono per fare il giro. Almeno due pennelli in setola ci vogliono. Perché altrimenti è dura. Però anche utilizzarlo tutti i giorni, bah, una buona mezz'ora a bagno ci sta prima della rasatura. Vi fate la doccia e poi è pronto. Mezz'ora, un quarto d'ora. Però io parlo di giro dei pennelli. Perché chiaramente non ne ho uno quindi vi parlo della mia esperienza. Poi chiaramente ognuno ha la sua. Però dopo che il pennello è secco, quello in setola, io una notte a bagno lo lascio. Se poi è umido, mezz'ora. questo era quello che volevo dirvi su l'ammollo, come il baccalà, sui pennelli. è importante per rendere confortevole la rasatura. Io trovo la rasatura confortevole così, utilizzando questi tempi di ammollo. quindi spero che questo video vi possa essere utile e magari chiarire alcuni aspetti di cui non abbiamo potuto approfondire magari con i commenti che mi arrivano e non posso rispondere purtroppo e quindi io rispondo con un video. Quindi cari amici vi auguro un buon pomeriggio ci vediamo durante la rasatura di domani che è domenica. Un abbraccio da Mauro un saluto dal canale della rasatura del Nerofida buon pomeriggio amici e a domani.